Nel 2013 abbiamo abolito il finanziamento pubblico ai partiti. Abbiamo ridato ai cittadini la libertà di scegliere. Anche quest'anno puoi devolvere il 2x1000 al Partito Democratico. È una scelta che al contribuente non costa nulla. In sede di dichiarazione dei redditi inserisci il codice M20 e la tua firma nello spazio dedicato. Solo i partiti che hanno presentato lo statuto e dato garanzia di democrazia interna e trasparenza hanno diritto al 2x1000. Il nostro bilancio è pubblico, trasparente e certificato. Dona il 2x1000 al PD. Restituisce alla politica la dignità che merita.